Fino al 27 maggio il Lucca Museum ospiterà la Monstra Paint dedicata a Gianfranco Zappettini, artista fondatore insieme a Wilfred Gaull e al critico Klaus Oneff della pittura analitica europea. L'esposizione lucchese esibirà sia una trentina di quadri appartenenti ai famosi bianchi e alle tele sovrapposte del periodo analitico, sia la produzione, la trama e l'ordito, serie su cui l'artista Liguria sta intessendo la sua attuale riflessione pittorica. L'essenza simbolica di questi quadri, declinati in blu, rosso, grigio e nero fino al recentissimo bianco, dimostra una continua ricerca interiore e pittorica dell'artista, volta ad esplorare la possibilità ancora nascosta del linguaggio artistico analitico. La mostra, curata da Maurizio Vanni e Alberto Rigoni e organizzata in collaborazione con la Fondazione Zappettini, consentirà di ammirare anche le opere di altri artisti dell'astrazione analitica italiana esterniera. Per il curatore e direttore del Luca Museum, Maurizio Vanni, Zappettini cerca l'interazione tra tutti gli elementi che decide di utilizzare sulla tela, creando una sorta di movimento statico, di disturbo tattile, in grado di emancipare con il colore l'essenza dei materiali utilizzati. Grazie!